Il derby d'Italia non è una partita come le altre e non lo sarà mai, porta con sé un fascino unico ed è una di quelle sfide che si preparano da sole. Quello di questa sera sarà il testa a testa numero 180 nella storia della Serie A tra Inter e Juventus. Noi vogliamo ripetere quanto fatto all'andata quando a casa nostra ci siamo imposti 2-0 giocando una super partita. Questa sera servirà un'altra grande prova e noi siamo pronti a dare tutto come sempre uniti fino alla fine. Si parte, è iniziata Inter-Juventus, valevole per la 27esima giornata della Serie A. Poi Barella ha anche spazio per pensare alla conclusione, la lascia partire! Scesni in angolo, prima conclusione del match, risponde Tech presente. Non è per Rabiot, ma un po' a ostacolarsi con Vlaovic, poi bravo a servirlo, ancora Vlaovic per Rabiot. Il controllo di Rabiot, dall'altra parte c'è Kostic, eccolo servito. Kostic entra in area, prova a caricare il sinistro! Filip Kostic, terzo gol in campionato, terzo gol in stagione e un gol favoloso! Con il sinistro in diagonale, fermo, inchiodato Onana! 0-1 al 23esimo! All'avverso Rabiot, rivediamo tutta l'azione, scambia con Vlaovic, ancora Rabiot. Questo controllo è fantastico, perché poi riesce a servire Filip, che prende la mira e ci porta avanti. Stappa la partita! Filip Kostic! 1-0! Che bel gol, che sinistro, chirurgico! Libera Acerbi per andare al traversone, finta il cross. Allora ci va Barella sul secondo palo, dove c'è Lukaku! Ballone fuori, occasione Inter con Romelu Lukaku. In mezzo c'è Lautaro sul secondo palo, Di Marco che si coordina! Murato da De Scilio! Non è successo assolutamente nulla per Giffi, c'è anche rimessa dal fondo. Per Vlaovic, poi su Ledi prima! Il pallone se lo ritrova sui piedi, poi Locatelli! In due tempi Onana con un brivido! Ancora Chiesa spacca in due l'Inter! Arriva al limite, Chiesa! Pallone largo, bravo Federico! Che bella giocata! Eccolo servito, il movimento di Vlaovic sul secondo palo! Poi il pallone diventa buono per Kostic! Attenzione perché subentra anche Brozovic! Mkhitaryan carica il destro! Brivido! Grande per la Juve! E si salva però! Quadrado per Vlaovic! Difende il pallone! Finisce qui! Finisce qui! Finisce qui!